Senti Alessia, ma Don Mirko ha detto che oggi tratteremo il libro di Giosuè e che da questo libro iniziano i libri storici, ma secondo te cosa vuol dire libri storici? Nel senso simili a scuola, la storia di scuola, qualcos'altro? Perché io ve lo sono chiesta. Non ne ho davvero idea, proviamo a chiamarlo. Don Mirko? Ciao Alessia, ciao Melissa, ciao. Di cosa stavate parlando? Ci stavamo chiedendo in che senso parliamo di libri storici nella Bibbia? Ci sono nella Bibbia dei libri che vengono chiamati libri storici, ma dobbiamo stare subito attenti, non è la storia come la intendiamo noi, e cioè il testo della Bibbia presenta una storia che noi diciamo essere una storia teologica. Questo potete segnarlo sul vostro foglio. È una storia che ha una forte componente teologica, e cioè si dà per scontato, si riconosce che in questa storia il vero protagonista sia Dio. Quindi le sciagure, come le benedizioni, le cose belle, le cose brutte, tutte vengono da Dio secondo un piano di Dio. Praticamente ogni situazione che si è verificata ha una spiegazione, o come premio da parte di Dio, oppure come punizione da parte di Dio. La nostra storia è molto diversa, la nostra storia è una storia di tipo militare. Spieghiamo perché una nazione ha vinto contro un'altra in una guerra, in una battaglia. La nostra storia è una storia di tipo economico. Spieghiamo quali sono le dinamiche dello sviluppo, oppure della fine di una nazione. La nostra storia è una storia di tipo politico, non è una storia di tipo teologico. Quindi dobbiamo tenere presenti queste differenze. Quali sono i tratti allora della storia biblica? È sicuramente la storia che ha a che fare con l'epopea di una nazione, cioè vuole raccontarci in maniera grandiosa quali sono le battaglie che questa nazione di Israele ha vinto contro i nemici. E normalmente anche quando noi raccontiamo delle battaglie delle nostre civiltà, diciamo sempre che è stata una grande vittoria. Tendiamo a nascondere le sconfitte. È difficile dire che quella battaglia alla fine è stata una mezza vittoria, una mezza sconfitta. Normalmente un'epopea nazionale dice abbiamo sbaragliato gli avversari. E questo lo dicono gli italiani e lo dicono anche naturalmente gli israeliti nella Bibbia ebraica. E quindi le vittorie sono sempre vittorie grandiose. Le sconfitte in parte vengono vengono nascoste con un linguaggio magari diplomatico o per traverso insomma le sconfitte vengono rimosse. A volte nella Bibbia si dice che tutto questo esplicitamente è avvenuto per volontà di Dio. Quindi il popolo è stato sconfitto perché Dio in questo modo ha voluto punire Israele. Vedete che è un modo di scrivere la storia molto diverso rispetto a quello che noi intendiamo per storia. I numeri nella storia di Israele sono spesso enfatizzati. Non sono milioni gli israeliti usciti dall'Egitto, eppure la Bibbia parla di milioni di persone. È tutto da capire secondo proprio il genere della epopea nazionale. Quindi questo racconto grandioso, un po' la Braveheart, in cui si vuole parlare della grandezza della nazione magari anche contro la realtà. Israele è sempre stato un piccolo regno, una piccola realtà, eppure si vuole descrivere di questa storia qualcosa di grandioso. Vediamo l'inizio del libro di Giosuè con l'episodio particolare del passaggio del Giordano. Leggo solo alcuni versetti. Giosuè si levò di buon mattino, si mossero da Sittim e giunsero al Giordano lui e tutti gli israeliti. Li pernotarono prima di attraversare. Trascorsi tre giorni gli scribi percorsero l'accampamento e diedero al popolo quest'ordine. L'ordine è quello di fare il passaggio del Giordano in maniera ordinata, non è quindi semplicemente un cammino, ma è una sorta di processione, è qualcosa di sacro. Già qui dovremmo farci delle domande perché non è semplicemente un passare il fiume. E riprendo dal versetto 5. Giosuè ordinò al popolo, santificatevi perché domani il Signore compirà meraviglie in mezzo a voi. E ai sacerdoti Giosuè disse, sollevate l'arca dell'alleanza e attraversate il fiume davanti al popolo. Essi sollevarono l'arca dell'alleanza e camminarono davanti al popolo. Il Signore disse a Giosuè, oggi comincerò a renderti grande agli occhi di tutto Israele, perché sappiano che come sono stato con Mosè, così sarò con te. Scusa Don, ma in che senso come Giosuè, come Mosè? Sì, allora, Mosè è il grande protagonista, potete sottolineare questo nome, Mosè è il grande protagonista del Pentateuco, dei primi cinque libri della Bibbia. È colui che Dio ha chiamato per una missione grandiosa, quella di liberare il popolo dall'Egitto, di essere l'intermediario attraverso cui Dio ha donato la legge al popolo. Ma Mosè, come sapete, non è riuscito ad entrare nella terra promessa, è morto prima per una certa punizione. Facciamo fatica a capire perché, ma Dio ha detto tu non entrerai con il popolo nella terra promessa. Quindi avrai un successore che farà questa cosa qui. Il successore di Mosè è Giosuè e allora Dio dice come sono stato con Mosè, come io ho protetto Mosè, gli ho dato la forza, gli ho dato il coraggio, nonostante tutto, di guidare questo popolo attraverso mille difficoltà, così adesso dice Dio io sarò con te e lo dice a Giosuè. Quindi Giosuè ha la garanzia del sostegno di Dio. Quindi è un messaggio assolutamente positivo. Da parte tua ordina ai sacerdoti che portano l'arca dell'alleanza. Una volta arrivati alla riva delle acque del Giordano vi fermerete. Allora Giosuè annuncia questa cosa agli israeliti e dice da ciò saprete che in mezzo a voi vi è un Dio vivente. Proprio lui caccerà via dinanzi a voi il Cananeo, Littita, Leveo, il Perizzita, il Gergeseo, l'Amorreo e il Gebuseo. Ma chi sono tutte queste persone o queste cose come il Cananeo, Littita, Leveo eccetera? Sì, Melissa hai fatto una domanda difficile. Qui si parla di popolazioni. I Cananei, gli Ittiti eccetera sono popolazioni che ritornano in tante liste nella Bibbia. Sarebbero le antiche popolazioni che abitavano nella terra promessa prima dell'arrivo di Israele. Il senso di questo brano è il fatto che Dio dice voi state per entrare in una terra che non è disabitata, che è abitata da questi popoli che sono molto forti, molto potenti, hanno un nome, sono popoli che hanno un'identità, una storia. Ma io, dice Dio, vi prometto che li scaccerò davanti a voi. Certo poi fisicamente Israele ha dovuto combattere contro questi popoli secondo il racconto della Bibbia. Ma Dio dice non sarete voi a vincere queste battaglie, sono troppo forti per voi questi popoli. Voi siete dei nomadi, siete usciti dal deserto dopo 40 anni, cosa volete avere con voi? Questi qui invece sono popolazioni che sono stanziali, hanno delle città magari fortificate, voi non potete niente contro di loro, però dice Dio io li metterò nelle vostre mani, li scaccerò davanti a voi. E proseguo la lettura. Ecco l'arca dell'alleanza del Signore di tutta la terra sta per attraversare il Giordano dinanzi a voi. Sceglietevi dunque dodici uomini dalle tribù di Israele, un uomo per ciascuna tribù. Quando le piante dei piedi dei sacerdoti che portano l'arca del Signore di tutta la terra si poseranno nelle acque del Giordano, le acque del Giordano si divideranno. L'acqua che scorre da monte si fermerà come un solo argine. Ma questo dodici uomini delle tribù di Israele è un'anticipazione dei dodici apostoli o è un numero casuale? I dodici, beh dodici è un numero nella Bibbia molto presente, è un numero che non fa parte del nostro sistema, il nostro sistema è un sistema decimale. Invece nella Bibbia ricorre molto questo numero dodici. Dodici sarebbero i figli di Giacobbe, dodici sono le tribù e quindi i territori nei quali dobbiamo dividere la terra promessa. Qui abbiamo dodici uomini, uno per ciascuna tribù, come rappresentanti delle tribù. Anche Gesù quando ha scelto gli apostoli ne ha chiamati, dicono i Vangeli dodici, per rimanere legato a questa tradizione. Dodici apostoli in qualche modo sono la sintesi della vicenda di Israele e quindi è vero Gesù che chiama dodici apostoli non fa che riprendere questa tradizione antica della completezza di Israele, della completezza delle dodici tribù. Quando il popolo le vole tende per attraversare il Giordano, i sacerdoti portavano l'arca dell'alleanza davanti al popolo. Appena i portatori dell'arca furono arrivati al Giordano e i piedi dei sacerdoti che portavano l'arca si immersero al limite delle acque, le acque che scorrevano da monte si fermarono e si levarono come un solo argine, molto lungo, a partire da Adam, la città che è dalla parte di Sartan. Le acque che scorrevano verso il mare dell'Araba, il Mar Morto, si staccarono completamente. Così il popolo attraversò di fronte a Gerico. I sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza del Signore stettero fermi all'asciutto in mezzo al Giordano, mentre tutto Israele attraversava all'asciutto, finché tutta la gente non ebbe finito di attraversare il Giordano. Ma quindi possiamo fare un riassunto dei tratti che hanno percorso? Sì, il popolo, se voi guardate, ha dovuto attraversare il Giordano per entrare nella terra promessa, ma se voi prendete in mano una cartina geografica vedrete che di per sé il passaggio dall'Egitto attraverso la penisola del Sinai fino alla Palestina non prevede il passaggio del Giordano. Per quale motivo? Il motivo è che il viaggio è dovuto essere molto più lungo, perché c'erano diverse popolazioni che bloccavano l'accesso di Israele nella terra promessa. Hanno dovuto fare il giro largo, passando per la Transgiordania e quindi anziché salire direttamente dalla penisola del Sina in maniera diritta, hanno dovuto fare un giro largo e entrare nella terra promessa attraversando il fiume Giordano. Naturalmente questo passaggio ricorda il passaggio del Mar Rosso, è qualcosa di miracoloso questo evento, come Mosè aveva ottenuto il passaggio del Mar Rosso, così nella vita di Giosuè, nella vicenda di Giosuè si ottiene il passaggio del Giordano con le acque che praticamente si fermano e permettono il passaggio. Per noi cristiani è un segno chiaro del battesimo, come attraversamento e rinascita. Don, ma mi spiegheresti meglio questo passaggio del battesimo, l'attraversamento del Giordano come il battesimo? Sì, beh, la tua domanda mi permette di aprire un discorso che finora penso non è mai stato iniziato. Quando noi leggiamo le pagine dell'Antico Testamento, proprio per la nostra fede in Cristo, siamo chiamati a leggere queste pagine non solo per quello che allora indicavano, e cioè un passaggio di un fiume miracoloso, ma siamo chiamati perlomeno a provare a leggere in queste pagine dell'Antico Testamento una prefigurazione di ciò che Gesù Cristo ha vissuto e di ciò che ha raccontato nel Nuovo Testamento. Sicuramente un episodio come il passaggio del Mar Rosso significa un passare in columi attraverso delle acque che diventano però anche acque di morte per gli egiziani. Coloro che erano stati eletti da Dio hanno potuto passare il Mar Rosso in columi e anzi attraverso questo passaggio in mezzo all'acqua hanno trovato la liberazione, la salvezza, hanno trovato una vita nuova dalla schiavitù alla libertà. Invece gli egiziani, diciamo i cattivi di turno, sono morti proprio in queste acque, quindi l'acqua del Mar Rosso è stata un'acqua che ha separato il bene dal male. Allo stesso modo un altro passaggio attraverso le acque è quello nel Giordano. Il passaggio del popolo di Israele nel Giordano è un fatto miracoloso sulla scia, magari meno grandioso, ma sulla scia dell'episodio del Mar Rosso, ma anche qui si tratta di passare da una dimensione di essere nomadi, di essere senza patria, invece ad arrivare a trovare una casa e una patria. Quindi un passaggio molto importante, avviene in maniera miracolosa ed è un nuovo inizio per il popolo di Israele, che dopo tanta fatica e tante sofferenze nel deserto adesso finalmente è arrivato nella terra promessa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.